musica attenzione, questo video contiene bestia e insulti, se presento un pubblico sensibile si vede a chiudere il video benvenuti a tutti ragazzi, sono Marchese99, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui oggi nell'undicesimo video di League of Legends, eh di The Road to Gold The Road to Gold quest'olta siamo sempre insieme a Matteo in botlane, quest'olta invece abbiamo Camper che sarebbe Evolution, va bene, lo dovresti già conoscere su Smurf e con Markim che sta giocando in Rallya Giungla, con le maestri AD no, le rune AD ma Marco, tanca due hit due hit non c'è tempo da perdere non c'è tempo da perdere ok, non c'è tempo da perdere ok, basta Marki no problem, andiamo scusa a Marki non ti ho pullato un po' di più ma non vedevo la vita del Gromp non vedi la vita del Gromp no, sono serio io eh ah ma abbiamo G contro, ma sei scemo cioè tu hai piccato G contro Irelia, davvero hai perso una furba non dici come non è furbo cioè tu Marki picchi la di Carry senza escape per eccellenza contro Irelia, contro Irelia Blitzcrank, oh cazzo non ho preso il Minion contro Irelia Blitzcrank, Yasuo io paro tutto, è vero SS sporchiamoci il culo ho messato il primo Minion non era il primo che hai messato si è è molto fatto che anello? quello vaginale? mi sono fatto un piercing sull'ano no, non è vero lo so che non è vero lo so benissimo che non è vero no, non lo sai ma dovrei dire te lo sei fatto, dove te lo sei fatto il piercing? sull'ano non è vero è Mananus attacco, attacco questo qua ma vieni giunglo ma vieni giunglo ma vieni giunglo ma vieni non era top ma non so semplicemente controlli ma che cazzo non sei serio? oh, fa la finta, metti lo scudo eh, si Marchi ma mi fanno danni, sai eh, lo so che ti fanno danni io grabo, Mattè cosa vuoi che faccia? che ma, graba la di Kerry eh eh ma per essere facile, Mattè Marchi basta registrare mi stanno partendo i mestegni 3 1 5 no ma, beh, l'olizio della torre che ha colpito Jin c'è proprio molto forte eh, Jin no ma ti accade Marte mi devi venire in bot lane eh, grazie ma per proprio di vento un po' indietro pof, cof, cof ah, sei a livello 2, cazzo ma non manco flashare non mi è capacito del danno che ho fatto quel coso è impossibile tantissimo però ti ha gritato, ma ti ha colpito con un colpo gritato, Mattè ho capito ma non ho mai fatto così tanti danni a questo livello nel dirgli e sto parlando di una manetta per colpa di Ginno e una parassi un bordello che in realtà è per colpa mia L2T ti ha detto a Matteo di prendere Graves ma che è il mio Matteo il cazzo me ne frega se io voglio giocare Ezra al cazzo c'è minchia è minchia giochi blitz, giochi Graves ok no, no, non è ok ma adesso quanti min non può rimbalzare quella cosa? 4 4 4 perfetto 44 ma lo sapete che il creatore di Gin era fissato col numero 4? 4 ma sai, i colpi che può sparare massimo sono 4 ma ecco, ecco, è per me no, 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 ok vabbè 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 c'è vabbè è che in bambini ma è alla merda non è possibile che devono entrare a ogni fotuto video è un rituale ma guarda che succedeva così io un po' di anni fa avevo provato a registrare cat mario no? non sono riuscito perchè ogni volta che iniziavo a registrare mi entravano in camera che cosa? ho finito ciò però solo di sperarsi non sono più entrati in camera magari ma te era perchè ti incazzavi è per questo che entriamo in stanza no entriamo in stanza a chiedermi le stesse cose venti volte che bello che stai contro signed e quindi mi maxo dai se c'è il taro di cooldown ti faccio la merda ce l'hai su col maxarsi dai tu canta ma guarda che fuori ma sto serio? si maxa seriamente dai lo so 1.05 matteo puoi guardare il bash? e il canon matteo lo voglio e io voglio cioè tu a schivare le cose sei proprio bravo marchi oh non ci creda matteo c'ha avuto il colpo dovrebbe pensare in un museo matteo c'ha avuto il colpo cioè quando l'ho grabbato ha avuto il colpo chiamma riesce a fare una rommata veloce no però posso dare la partita guarda quanta vita ma sei serio? ciao matteo morto nooo perchè non l'hai preso matteo? eh intanto lo prendo io guarda il flashing light eh? ma sei serio? sono un genio cazzo raga ciao ciao sono un testa di merda raga non ho visto un morgan matteo che cazzo stefa? oddio ma guarda solo gill io ve lo fai flash in light puoi guarda no non direi proprio matteo va via ci sta zack credo e qua ce l'hai bronzo 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 la sanno guarda no ma chi? cioè allora stavolta l'ho fatta io la presenza quella lì non ho ancora sbagliato una cui e la prende attraverso i minion ma te perchè sei beccato? c'era il cannon che non evitare male della pericoloso star ma se è pericoloso stare qua quel genio quanto sta? 3-0 troppo troppo ma te io non mi capacito del culo che ha avuto quello che quando l'ho grabato aveva il crit quello matteo permettimi ma quello è culo eh quello stava in un momento a zack che merda ok adesso posso andare via smettogli la peratta no scusate tene l'ho pusciato tene l'ho pusciato senza magari farti prendere dalla cuivorna e t'ha visto? e sei fuori dal bash no no e faccia di cazzo come se lo sapessimo che lei mi dio cane romper cazzo sto zack sta di nuovo qui ma guarda per colpa di me sono troppo indietro si si tutto scuso io sono indietro e basta vai grab thanks non so perchè mi sono visto più vicino Matteo quanta fa? a me non c'hai più farm di lui? quasi per niente non ho per niente più farm di lui beh è quasi la stessa farm ho detto no questo almeno hai più farm di lui no 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 Matteo dobbiamo andarci se vogliamo vincere Matteo dobbiamo andare BACI I 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 Ancora ci sto io? ti hanno visto credo e vabbè ne hai parte c'è ignoranza di grabbi super guaiver ci sta Zack ci sta Zack ah 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 Mahkime Cioè pushate sempre Una volta che vado là Ci siamo in gank E poi devi usare la ulti Quando devi ingaggiare Fare fatti Ciao ciao Troppo non gli posso dire niente Purtroppo nemmeno noi Possiamo dire niente a quel gin Ieri sera mi ricordo solo Che l'ultima partita che ho fatto con te È stato qualcosa di bo Era la scorsa ranked Lo stesso episodio da Rock to Gold Se non sbaglio Ho pensato che dovevo stare calmo Perché pensavo di avere la pressione alta Poi ho scoperto che era la macchinetta Che sbarillava Matteo guarda il chat Sto venendo in botte per l'ennesima volta Non è grab No vabbè così non mi poteva prendere No basta di Non moriva camper Ma chi sa di ma Non ci credo dai Mi è scaduto il tornado quando ho fatto flash Ti giuro camper non ci muozi Grappala grabbala 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 Non ce l'ho 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 non ho mano non ho mano Ma dai Spammati così Eh non c'è più da questo oggetto Io c'è più da dalla moneta che posso spammare quanto voglio Oh merda Che coglioni Era per andare dall'altra parte scusa Va bene dai si può si può si può riprendere 4 2 Io ho marquis Ah lol Non avevi mano? Non avevo mano Matteo Senti io Mi faccio questo oggetto Ma che volevo farmi la moneta E' fatti la moneta A caso si dice Perchè ti sei comprando ora al mito 15 ma sei matto? Non lo so Se non lo puoi comprare Roviniamo la moneta ragazzi Roviniamolo tutti gli oggetti che ho fatto E rifacciamoci la moneta Ok Matteo No Matteo ho dovuto farlo Ho sprecato quant'è Ho sprecato un po' di soldi Però sono stato costretto Però sono stato costretto Ezra è uno di quei champion che Vuole la pena di giocare solo per le frasi che dice Bello adesso avere ebay 5 di rigenerazione mana E poter spammare adesso 5 5 5 5 5,2 Matteo per essere esatti 5,2 ogni 5 secondi? Si col cazzo No Ogni 5 secondi è 26 Allora No 5 è al secondo Stavo a farla mutata Penso che io ne ho 16 ogni 5 secondi Guardate che bello scorsa Andrea Oddio dove l'ha preso una villa? Camper come me lo buildo Ederal contro Contro sto team No Matteo Tu devi fare prima la mana a moon Perché? Eh perché non la staccheremo Ma ho la goccia Perché ti serve di staccare la mid lane Capito? In mid game scusa No la goccia Apposta Ho capito ma non te la stacchi in mid game Qua la goccia No Matteo che sei fatto Serve almeno per quando tagliamo Io me la faccio sempre per un freestyle Ma chi? Mi sono messo davanti Matteo No no ti giuro stavolta mi sono messo davanti All'antè ediziamo vp ma a te vp vado a guardare no ma io ho messo il mid e via queste due stack la vado a prendere ah 30 secondi di cubo perfetto mi faccio mmm questa qua ok mid matteo occhio stanno arrivando in 50 in bot get out of my level si ma dio cani eh gingio figa ma bannacoria perché ho fosciato sorry for the outplay no comunque in ogni caso tanto gli ho fatto male con quella cosa mi sono davvero rotto il cazzo di sentire aoshin e aoshin volevo dire aurelio penso che dopo questa ero in circuito hanno fatto il nemico no più che altro più che altro matteo inizialmente io ancora quel non mi capacito come quel gene sia stato scurato all'inizio io ti giuro ancora non me ne è capace non mi ha detto che non è stata un'appogliata quella ma guarda guarda ehm tu lo stai riprendendo si io non so se secondo voi era uno splayato intanto non ti commenta nessuno il video lo so Matteo mancuno se ne merda 87 persone come fai ad avere quella world camper ah che cazzo deve so sai quanto costa ma non è il mio account si lo so ma sai quanto costa credo di aver fatto una gazzata un piccolo come k si ma chiede di essere inseriti tutti questi e la sanno do a pensare a quanti come k eravamo io odio jean raga non è possibile come sempre non si può fare comunque la combo jean morgana zack è troppo troppo più non ci credo Matteo non fai danno chi è lotuo chi è loco chi è loco chi è loco mi spiace che ampla te l'hanno fatta vedere la coppa Dio, aspetta com'è che si dice? Dio, com'è che si dice l'ho bevuta io? Vabbè, restiamo tardi, non mi ricordo com'è I drink it Cos'è la vuoi in inglese? L'ho bevuta io, Mar L'ho bevuta, hai drunk it? E' rimasto un buco Ma perchè è il demora? Io l'ho rifatto Fermo Matteo Ha uno static Eh, Matteo, 4 persone forse, per di più No, 4 persone, 4, 4 No, io ho sbagliato, ho piazzato la pink, la io, vabbè Io ho la mia abitudine di non mettere Perchè quel Gine ha uno static e quelle scarpe? No, davvero, perchè quel Gine ha uno static e quelle scarpe? Perchè quel Gine ha uno static e quelle scarpe? Cosa è uno dei Berserk che ti hanno dato un text dubbio? Perchè, perchè dice la frase Sì, se ne frega Lo dice pure con l'Arabie Fair Cannon Cosa dice? L'Arabie Fair Cannon Non sa c'era Ma te c'è il mondo qua sotto Cosa che dice? L'Arabie Fair Cannon, wow Berclap E aveva ancora quella torre noi Bravo mondo, bravissimo Guys, we need any L Perché quella ultima te? Per tentare di creare il D Matteo, sai che ci stai andando da dietro, vero? Prende la sta a 2-6 se te lo vuoi fare Ehm, no, marra, marra Zack, diello Sto venendo Spunnalo Ma deve evitare il mid, Matteo Anzi no, Matteo, vieni Hai tolto il D Ho il Drake Ma sono tutti al... Ma qualcuno ha una pink Ecco, bravo Eh, io le ho testato a te due Oh, vengo, sento Lasciamo Dai, vai, vai Dai, vai, vai Ma c'è il tb Poi camminare qua No, non sono qua, avete lo scelto Grazie Dai, adesso è comunque la stacca Basta la stacca Basta la stacca Basta che anche per il Giorgio e per i cambi della giungla basta un autoattacca e ti danno la stacca Non mi dico Ma che senso ha smaitare l'ultimo, no? Ma senso che sennò te lo fottono Per evitare che te lo fotte il team nemico con una spella Ma io ho 4.000 spelli Camper Eh? Ora che mi faccio dopo le scarpe? Dai, dai Fatti una... come si chiama? Dominic Una? Dominic Ok . no soldi camper mi servono il cinema ah va bene dai saluti di lord domini in tutto questo preso un minion e non era il che... Matteo tieni un altro se ne è fatti sti per me è rimasto solo quello piccoletto da fare non immaginavo facesse così tanti danni ok andiamo va botto arrivo Matteo perchè non mi ha avvisato della bot lane c'è bisogno di avvisare le persone quando ci sto andando in unimappa davvero? vuoi vincere questa ragazza? no io gli direi di no ti giuro io gli direi di no perchè ti ho fatto qualcosa a macchina lo so l'ho visto l'ho visto ho sentito anche il rumore del grab partire ho detto non gli avrà mica stilato il blu e infatti non ci sei riuscito ma non volevo stirarglielo Matteo lo scontro e se Matteo come se non lo so quanto ci stai grab a partire e arrivare non ne ho appena non sai neanche quanti centimetri hai nei pantaloni vuoi sapere quello guarda Matteo l'ultima volta te lo dico dopo perchè ora sto registrando in effetti te lo sto per dire giusto per dire l'ultima volta i miei eranometri eh? giusto per dire l'ultima volta i miei eranometri sto morendo il cazzo puttano andiamo ragazzi dai si può vincere ue raga figa ue raga figa oddio ma che ho visto la mia vita scendere nella 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 gui e non ho capito perchè poi l'ho visto che Matteo vieni qua però io sono un genio che tento di schivare in lungo l'acqua di morgana va c'è mare va c'è come se non so per quanto è lungo il grab quando parli quando arriva non me lo aspettavo molto più vicino Matteo i danni ho visto da anni camper hai visto che comunque l'ho staccata 26 minuti la manamune trenta hm? siamo a trenta lo so io l'ho staccata 26 minuti vedi che con la moneta posso spammare Matteo io ho push ragazzi ah nooo lo stun di merda eh si meno stun di non è eh si eh su adesso ruta vai che davvero cazzo va chiamata cioè quella morgana ci ha forzato la corre no 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 fermo camper non andartene io ora vado a viviamo su full life school tutto il 100% di lui dice no vado con life school quant'è il massimo di life school? non ce n'è non è il 32%? no no non ce n'è può arrivare anche il 50% se non sbaglio come? va se ti fa gli oggetti Matteo vabbè poi dipende vabbè in base agli oggetti è logico però mi fai uccidere qualcosa c'è il drake c'è il drake io me lo faccio da solo oh me lo faccio da solo non andate Matteo non so nemmeno io come l'ho presa infatti mi erano andato non so mica le parte all'oscuro quanto cazzo tempo mi hanno sfumato se posso dare Matteo cosa fa? Matteo bravo allora Matteo Abbiamo recuperato la partita E adesso io mi faccio camper Oh Lei mi hai fatto Ezra Crit No Matteo vieni Qualcuno venga Secondo te quale è l'idea più ovvio su Ezra da fare Infinity Oltre a quella che ti fa la Titan La Trinity No Il predatore L'Essence Reaver Perché Perché è Critta Matteo Con Ezra Crit Ma ma Q di Ezra il Critta vero Si però Come Non Critta No mi hai messo 45% CDR All'altro Bravo Marchi si scappa così dai nemici Grazie Io odio questo gioco Davvero Io odio te Odio te E te E poi Matteo E chi altro Tigai Bravo Non è vero Tigai è il mio amore della vita Infatti siamo amici da 7 anni No 8 anni Muori per la stonzata che ho detto Matteo Ulta Matteo ulta Dovevi ultare prima Non ne preso nessuno Ho letteralmente salvato a culo mondo E vado top Ho fatto Ace Già arrivavo No finta One shot up E' vero Io non gli ho fatto solo RQ Pensa che Sandra mi ha preso con uno spell E guarda la mia vita Allora finiamolo Morgana senza vestiti Mamma mia Bella a tutti ragazzi Sono Favi Ciao Favi Perfetto Per questo episodio è tutto Bella a tutti ragazzi Quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Un saluto 27 LP E Silver 4 22 LP E sono bronzo 1 Perfetto Mi sento Silver 4 Ora mi gratto il culo Ciao ciao